Danilo Scollo è stato eletto dal direttivo nuovo presidente della sezione Ascom di Chiara Montegulfi. Il giovane imprenditore sarà sostenuto da Cosimo Di Benedetto nella qualità di vicepresidente. Gli altri componenti del direttivo saranno Elvira Ballato, Salvatore Cutrera, Paolo D'Angelo, Luca Mercorillo, Vittorio Mici Luzzo, Giuseppe Morando, Vincenzo Piccarella e Giovanni Salerno. Quest'ultimo, presidente sezionale uscente, è stato delegato dal direttivo a rappresentare l'Assemblea Provinciale. All'appuntamento di insegnamento erano presenti Gianluca Manenti, presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Maurizio Tasca, vicepresidente provinciale e Emanuele Brugaletta, direttore provinciale che ha augurato buon lavoro a Scollo e ai componenti del direttivo. Il presidente Manenti crede che ci siano le migliori condizioni per favorire il più possibile la crescita della sezione, Tutto il comparto deve essere sostenuto e per tale motivo deve poter contare sui imprenditori che sappiano il fatto loro, tra questi il nero eletto Scollo.